Che cos'è? Una specie di mantello Beh, vediamo come ti sta, mettilo Il mio corpo è sparito Io lo so che cos'è È il mantello dell'invisibilità Lo voglio anche io È rarissimo Andiamo a prenderlo Buondì Buondì Oh, uff, ottimo, oh, eccolo, ecco, vuoi il mantello originale di Harry Potter? Cioè, l'ho dovuto pagare con... Secondo voi come pagano... come pagavano in Harry Potter? Era in Inghilterra, quindi sterline... Sterlotte! Sì! L'ho pagato 50 sterlotte! No, quello era azzorro! Cazzo! È intellibile! Giusto? Sono Harry Potter! Benvenuti in questo nuovissimo unboxing! Pronti? È una figata! Che caro scarso! È un budget bassissimo! E' un budget bassino! Che caro scarso! Grazie a tutti.